Ma che fate? I tortelli Sono 200 ma Mancano 100 Ci mettiamo allora quello che ha più alcool No perché c'è rum, c'è pure rum Ma te ci piace a te? Ma mica si sente, non penso che si sente rum Ma qui è un bicchiere più grande no? No, che dopo è liquido Ci si mette poco Un bicchierino Sarà troppo Un bicchiere a dire che si è scritto Noi va a rattarli Dopo l'ora che ho fatto Un ricettario analogico Che gli dai un c'è Ma metteci un bicchierino Eccolo Eccolo Impastano Allora la cannella Questa è la cannella, è natura Ma perché non la fate tu ma? Perché? Perché hai disturbato tua figlia Madre Perché queste ci vogliono essere Almeno due Due anni fa l'ho fatta da sola Che ci mette ma? Il limone Tutta roba naturale vedo Ma c'è la boccia È scritto in tedesco? Che c'è la tavola Che c'è la tavola No Gripene, citrone e ciale Ma i limoni Sono come le bestemmie Le limone A volte uno è grosso E uno è piccolo Ma ci sono le bestemmie grosse E piccole Madre mi fai un esempio Di bestemmia grossa? Ma ora Ma ora Ma ora Non ce la fai niente qua giuncantino Ci fai il bagnallo A due o tre Qui c'è scritto sei ma Allora qua Sei tre No per l'impasto Ah Invece ho pensato Ci metto un po' di latte in più Invece non questo altro Perché qua non lo va Se non lo va Mettiamoci anche un po' di vino Eh ma Ma tanto vuoi mica per i bambini eh No Che per prete Ma i preti non bevono alcol madre No La mezza perché con l'acqua no Ma io tanto aspetto fuori Un prete San Lorenzo Beh però San Lorenzo che può essere un prete strano Mi ha detto adesso Non siamo razzisti dai Ora se uno non sa parlare perfettamente l'italiano Può essere comunque un bravo orato Qui c'è l'oratore Oratore Oratore Eh quindi qui che è? Eccato questo Tu mi butta dentro Anche tu qualsiasi cosa che trovi qui per te Ora la salgiamo Se noi ci mettermo quest'alto di uova Tanto è per prete no? Sì è per prete Ma tu lo leggi senza occhiali questo? Io perché Quello è grosso sì Ah No un po' pure pure Dopo che ho fatto la cataratta Vedo pure senza occhiata Madre ma queste uova escono da qui Dici Sì Chi è? Le ho portato le uova Da dove provengo? Dal culo della gallina signor E queste sono le saggezze Sì sì Per chi non lo sapesse eh Le uova vengono dal sedere della gallina Tecnicamente si chiama la cloaca Che era? Il culo della gallina Ma come sei? Estrutto Eh sì sono strutto Tu hai capito? 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 Tu sei più in destra Ammazza quanto sei bella Nadia Di prima mattina Non esiste uno strumento Esisterà sì Di planetaria Sanitaria Se sentiamo un uvatore Una cucchiara Sta male No Per Impastare Più viene libero Però che stringe Dopo ne fa Eh perché cosa? Però anche il limone dice che stringe Ecco Perché sta diventando molto più cremoso Sì Questo non è per lavorare proprio tutta la metà Fino a fine Niente meglio di un buon chinotto Alle nove e mezza Ma il chinotto sempre eh A tutte le ore Ma secondo me anche in campanello va Le ruote Ma questo è per fare la pizza? Ma tu andai da preparare qui sotto Mi stai mandando via? Guarda un po' ti stai già chiamato Bravo la macchina eh Ah 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 Dopo ho qualche minuto Perché non Qui 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 Quella in Germania ora Sarebbe quella Eh Anche più di una Ma forse si perde Quelli con la capoccia più grossa Che si vede Lo facciamo adesso Così? Metticela così Guarda Si dolce Si apre no? Capito? E poi E poi mi tocca No Non mi tocca Di minigrazzetta Allora Non si accendo la luce? No 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 Niente Niente Tutto è bene stato? Sì Alla dottore la fila che c'è con niente Vanno al dottore perché stanno bene Non ci stanno tanto per niente Non ci stanno tanto per niente Le mascherine quelle che Ma cosa significa pasta frolla? Senza lievito Senza lievito Senza lievito? Senza lievito per niente Quindi significa frolla dal latino senza lievito Ma Ma Io se da latino Ne so E pareggio che latino Non l'ho studiato mai Madonna Questo per la fila il manico eh Io dico adesso che mi manca Il manico è lì davanti Tu almeno Mettemelo Ma fa qualcosa da Ma io vi sto aiutando eh Voi non ve ne accorgete Se adesso mancassi Ma Sentireste la mia mancanza? Guarda Se non ci fossi Non ci sarei Eh ma dai Guarda E' un genio sto Guarda E' a 5 E' a 3 E' a 3 ma Ah vedi Apposta Ma l'occhiale te le consiglio? Eh me sa Però dopo mi gira la testa con l'occhiale Ecco Adesso Però da scattare Ecco Non fa niente Non ci si può mannare via Che puoi far scattare lì quello Capito? Eh so utile Il sarcasmo della mamma Ecco Adesso si Che si senti che Non sei rivolta L'altra Ma io non è nessuno Sto facendo Lo sai Ma lo vedi che Nadia buca i tortelli? Ma e questo ha scoppiato tutte eh Madonna Ma si Ah Guarda Ma se mi fai rivolta meglio è Farenga Rivolta la pezza Sì Ma è grande Mi lascia E questi sono i tortelli di casa Nicolai Questo lo posso mangiare Eh però adesso tostiona Ma a me ne che mi piacciono eh Salute ma Eh Salute ma Ciao 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 Grazie.